Era d'agosto e un povero uccelletto, ferito dallo schioppo di un moschetto, annò per riparasse l'ala offesa, affinì proprio drento de'na chiesa. Dalla tendina del confessionale il paroco intravide l'animale, mentre i fedeli stavano a sedere dicendo sottovoce le preghiere. Una donna che intravide l'uccelletto lo piò e se lo mise drenta al petto e a un tratto se sentì un piccolio, cip, 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 cip. Qualcuno rise, ha stoccantato uccelli, e il paroco seccato disse a quelli, chi c'ha l'uccello adesso, per favore, esca fuori dalla casa del signore. I maschi, un po' sorpresi, a ste parole lenti e perpressi arzarono le sole, ma il paroco lasciò il confessionale. Fermi, disse, me so espresso male, tornate indietro, statevi a sentì, sol chi ha piato l'uccello deve uscire. A testa bassa e la corona in mano, tutte le donne uscirono pian piano. Mentre andavano fuori, gridò il prete, mandannate, sciocche che voi siete, restate qui, che ognuno ha scorti e sieda. Mi riferivo a chi l'ha preso in chiesa. Ubbidienti, in quello stesso istante, le monache s'arzarono tutte quante, e con la faccia a pizzo dal rossore lasciarono la casa del signore. Per tutti i santi, allora gridò il prete, sorelle, entrate in trento, estate quiete, e ora definilla peccatori cost'equivoco e tutti questi errori. Esca soltanto chi è così villano da sta' qui in chiesa col uccello in mano. Bene anniscosta, in un sito appartato, una ragazza col suo fidanzato in una cappelletta laterale, ce mancò poco se sentisse male. E con la faccia di un pallore smorto disse Che te dicevo? Se ne è accorto?